Un esperimento raro in Italia e totalmente gratuito per la cittadinanza. A partire da questa settimana, ogni mercoledì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12, in municipio sarà attivo lo sportello filosofico curato dallo studioso Luigi Amato Kunst di Filoactiva. Noi riteniamo che la cultura, in questo caso la filosofia, sia uno strumento utilissimo per poter affrontare al meglio le sfide del nostro tempo, quindi quando ci è stato sottoposto questo progetto da Filoactiva e da Luigi Amato Kunst che ci seguirà in questa avventura, pensiamo che possa essere utile per i cittadini per riuscire a avere maggior consapevolezza e affrontare queste sfide. Il progetto partirà mercoledì 11 in municipio sedico e nel sito del comune troverete tutte le informazioni necessarie per partecipare e anche per capire più nel dettaglio cos'è. Lo sportello filosofico di Filoactiva non è uno sportello psicologico, non è psicoterapia, non è assistenza sociale, non è counseling e non è nemmeno coaching. È un esperimento che in realtà parte da lontano, parte dal nord Europa, dalla Scandinavia, da Lussemburgo, dalla Francia, come emergenza umanitaria. Quindi abbiamo lavorato con la Croce Rossa Internazionale, le Nazioni Unite, la Caritas, il Lisco. Lo sportello filosofico cercherà di dare nuove chiavi di lettura per una realtà che, sotto il punto di vista sociale ed economico, è molto cambiata negli ultimi anni. La filosofia pensa che molti dei disagi che le persone stanno soffrendo non derivino da patologie, ma da fraintendimenti delle strutture del reale. L'economia è cambiata, è passata ad un'economia ad andamento lineare, quindi tranquilla, prevedibile, comoda, ad un'economia ciclica, quindi imprevedibile. E la filosofia, in questo passaggio di paradigma culturale, cerca di aiutare l'individuo dando gli strumenti razionali, profondità di pensiero e strumenti culturali.